E' Franco Foderà del gruppo misto appartenente alla maggioranza a sostegno del sindaco Nicola Coppola, il nuovo vicepresidente del consiglio comunale di Castellammare del Golfo. Ieri l'elezione da parte del civico consesso in seguito alle dimissioni dalla carica di Giuseppe Fausto, esponente del nuovo centrodestra, recentemente nominato assessore, e che quindi per incompatibilità ha dovuto rassegnare le dimissioni da vicepresidente del consiglio, rimanendo comunque anche consigliere. Suffoderà la convergenza di quasi tutta la maggioranza, infatti sui 12 presenti in aula c'è stata l'astenzione dichiarata dal presidente dell'assise Mimmo Bucca e di un altro esponente di maggioranza. Si ipotizza che ad astenersi possa essere stato il consigliere del Partito Democratico Mariano Maltese, il quale, durante i lavori, aveva lanciato la proposta di dare alla minoranza questo ruolo. Cosa che invece i consiglieri della coalizione a sostegno di Coppola non hanno condiviso. La minoranza invece si è mosse in un altro modo, anche se non in modo compatto, indicando come candidata alla vicepresidenza Laura Ancona. Da ieri sera quindi entrambe le più alte cariche del consiglio sono di riferimento della maggioranza, mentre quando si insediò l'assise nel 2013 l'orientamento fu proprio quello di assegnare all'opposizione la vicepresidenta. Infatti Fausto all'epoca, e sino a poche settimane fa, faceva parte proprio della minoranza prima dell'accordo sancito tra l'NCD e Coppola. Foderà, 60 anni, ex esponente di articolo 4, prima della rottura con il suo leader regionale Paolo Rugirello, venne eletto nelle file della lista civica lavoro e sviluppo, finendo poi nel gruppo misto. Nel contempo è stata fatta anche la surroga del consigliere dimissionario Lorena Di Gregorio, che ha lasciato l'incarico in seguito alla sua nomina ad assessore nei giorni scorsi. Al suo posto Mario De Filippi, che ieri ha giurato, o già assessore, della giunta Coppola. In questo modo si ricompone del tutto lo cacchiere politico e istituzionale a Castellammare del Golfo, in seguito alle dimissioni di massa dell'aggiunta lo scorso 17 luglio. Mossa strategica che ha dato la possibilità al sindaco di tornare ad avere una maggioranza in consiglio comunale. C'è stata soltanto la riconferma nel ruolo assessoriale di Salvo Bologna in quota PD. Per il resto, le nuove nomine hanno riguardato per l'appunto la Di Gregorio e soprattutto Giuseppe Fausto e Maurizio Paradiso, quest'ultimo in quota Sicilia Futura, i quali hanno portato in dote ben quattro consiglieri a sostegno del sindaco.